Dei piccoli borghi medievali passando dalla via francigena, le spiagge selvagge, le città d'arte. Questo è quello che prediligono i turisti quando scelgono la Toscana per i loro viaggi. Una Toscana che è ovunque bella, come confermano i numeri delle presenze del 2016. 90 milioni i turisti che hanno scelto la nostra regione, attirati anche dall'eco che ha avuto il brand Toscana sulle maggiori testate giornalistiche mondiali. A Milano, Regione Toscana e Toscana Promozione hanno illustrato nella sede dell'Associazione della Stampa Estera i risultati del sito web Toscana Ovunque Bella, creato appositamente per raccontare quella Toscana fatta di piccoli borghi e di storie vere. Un strumento di comunicazione che racconta, non replica, non duplica i tanti siti possibili, a volte scontati i mezzi di comunicazione, ma racconta in maniera originale un tratto distintivo della nostra regione, i borghi, le comunità locali, i comuni. L'obiettivo di Toscana Ovunque Bella è quello di raccogliere racconti che descrivono uno dei comuni della regione e solo a gennaio 2017 il sito ha avuto 184.000 visite e 221.000 visualizzazioni. La nostra regione è un brand riconosciuto a livello mondiale, Germania e Regno Unito sono i mercati più importanti per la Toscana, ma sono gli Stati Uniti che generano tendenza con 4,5 milioni di presenze ufficiali. Siamo convinti che la Toscana continuerà a fare grossi numeri sul turismo culturale, sul turismo balneare, ma abbiamo delle aspettative molto forti su alcune nicchie di motivazione turistica, quindi penso al turismo naturalistico, al turismo ambientale, al trekking. La promozione del turismo in Toscana punta a quello romantico, sportivo, quello che va a scoprire Borghi, l'immersione nella spiritualità della via francigena, ma anche al matrimonio in Toscana, in voga tra le celebrità di tutto il mondo.